Senti, ti ascolto Radio DJ, perché te la prendi coi giovani che non sanno più fare i lavori manuali? Cosa te ne frega? No, me la son presa? No, è che a Natale, hanno detto, uno dei regali più richiesti a Natale è il drone, no? Cioè quello che fa le inquadrature dall'alto. Io dico, ma te che cazzo ne frega di fare le inquadrature dall'alto nella tua vita? Cioè tu, idraulico, normale, non lo so, io panettiere così, per vederla a casa dall'alto. Ma te che cazzo ne frega di vederla a casa? Cioè cos'è sto trip? Allora io dico, ma è possibile che adesso sono 6.000 master e poi io non riesco a trovare quello che mi ripara le cose? Dico, imparare a fare un mestiere, mi hai portato delle robe da fare. Non mi apre questo barattolo. Ah, me l'avete chiuso col Bostic. Che ci provo che non ti viene. Che maledetto, il Bostic, con l'Attac. No, 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 no. Guarda qua che merda. Ma no, è per il mio... Guarda, le api non cagano Attac, guarda. Se mi apre questo barattolo, è per il mio... Guarda, guarda, dov'è la telecamera? Guarda, le si sono attaccate le dita. Dai, ma provaci ancora un po'. Ma questo è Attaco. Ma non è, è il miele che appiccica. Ma che il miele che appiccica? No, no, qua c'è l'Attaco, ma l'avete fatto lo scherzo. Che cos'è questa? È il miele per il mio tè. No, hai detto che tu saprei fare la mia. Io so fare tutto, cosa c'hai nel cesto? Apri una birra. Tu sei capace di aprire la birra con l'accendino? Con l'accendino, sì, sì. Dai, va, apri sta birra. No, no, non c'è nessuno. 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 Se non si apre la prima è finta. Bravissimo! Calda, credo che sia, ma va bene. Una bella birra calda. Se c'hai anche 20 grammi di fumo, guido. Io guido e rollo. Se vuoi, se hai un volante finto e due cartine, ti faccio vedere che col ginocchio... Questo cattivo messaggio adesso... Per carità! Bye!